Paolo contro Pietro si accettano scommetti pronti? via ma allora fai il delinquente che imparata che bella questa sono stato proprio un gretino qua è stato te stesso non c'è capito niente 2 a 1 ma no questo è male così ma questo è questo è ma che tira il bersaglio questo è bello questo hai fatto la fritta dell'autocoll no no tu ne hai fatti 2 non 3 e là perché sei a 3? che fisso stai a 2 e io sono a 3 ma che sei a 3? che sei a 2? ah sta a 2 stai rubando eh ti dico che sto a 3 2 ma è su 3 guarda faccio te questo a 3 dai vediamo che sto a 3 stai a 3 guarda quando fai? quando fai? quando fai? che parata sono fisico anche politico corpo solido sto perdendo 3 a 2 questa è andata a perdone nessuno sa quanto riguarda? no ho questa paura con quel no non vale però oh vai sono fisico anche politico che era questo suono? è un lama? un tuono? dai bichettino era un tuono sì che era un altro tuono? sono 5 a 3 che si è successo? cosa è successo? vieni cosa è successo? cosa sta accadendo? cosa sta accadendo? ahhh ma ma non li fai? ah bella 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 che day no 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 non so non ci sono 10 passetto è panata è panata è cadernacciato che è cadernacciato io sono fisico se anche è politico un po' solito palo palo questo va fatto palo 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 go palo palo go questo è molto magnato questo me ne posso magna uno due no però anche io eccolo pressing palo palo quanti pali ho preso quanti pali ho preso no no l'ho parata no no mezza giocato qua si è fatto come una pippata ma io l'ho distrutto ma io l'ho finito i numeri tre sei otto a quattro pazzesco questa è una partita di natale è un fila ma che cazzo è un fila no è entrato in fila e quindi siamo sull'8 a 4 paolo sta battendo pietro ormai l'ha battuto qual è il gol della difesa paolo allora niente eccolo nessuno lo sa ma che son bellezza 8 a 5 c'è stato un gol ma comunque prendo queste tre sei pronto? si mamma mia ottima difesa uva ah palo parata tiro parata no ah 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 tìro palo palo pompa uva io so 500 non è stato tante 1 euro siamo all'allacchiamo all'allacchia 24 mamma mia che portierone ah, sono sbagliato nessuno sa giocata scientifica vediamo vediamo una giocata scientifica allora vorrei provare parata incredibile incredibile parata di pietro difesa sei forte infatti quando giochiamo con due difesa sei forte ma non basta non riesco a più io so a 9 vabbè siamo vari siamo 9 a 7 9 a 7 io non l'avevo segnato ma che non l'hai segnato 9 a 7 10 a 7 finito hai perso Pietro allora Pietro Paolo Battepietro 10 a 7 clamoroso